Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Materni di Rauterology Siamo qui su Destiny, il re dei corrotti, benissimo Ecco qui ragazzi, attendiamo, attendiamo, attendiamo Minuti di attesa, molto, molto, ecco, l'ascesa degli stregoni Parla con Icora Ray, ma chi è una porno star questa? Icora Ray, ti mostrerà la sua figa Se gli dai solo un euro Ella, vai dai dai Questa è lei che si sta spogliando ragazzi, sentite È un po' con, questa Icora Ray è un po' con È un po' come si dice, è rumorosa quando si deve spogliare Vuole farlo capire, ecco Oddio Oddio ragazzi, non so il multiplayer? Non so il multiplayer? Oddio, io non lo so ragazzi, allora Giorno delle armi Oddio, che cazzo Ok ragazzi Ok, direi che Dobbiamo andare giù Sì, lì Ok andiamo Uh Dove vanno tutti? Vado pure io Ciao Eccolo qui ragazzi con Ray Benissimo La torre ti dà il benvenuto Oggi inizierò il torneo per brandire la luce e affrontare le fauci dell'oscurità Durante questo viaggio io sarò sempre qui al tuo fianco E te la metto in culo pure Iniziazione Degli stregoni Benissimo Beh, a me che me ne fotte Ok, che devo Comprare 32, 42 Ah Sì Ok, basta Allora Questa Richiede il livello 8 all'ora nel frattempo o mi equipaggio questa? Poi No, questi no Va benissimo Direi che per ora è tutto apposso Fammi vedere se posso appistare qualcos'altro Sì Voglio acquistare la tua figa Quanto costa? Vabbè, basta Allora, vediamo qui Un cazzo Ciao Oh mio dio Guardate quanto è un figo Wow L'armatura dei titani Ma mia No, io non bacillo Chi è lo 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 magic option? Ah Ma allora io avevo detto che stiamo in un multiplayer Cioè Una specie di lobby Qualcosa Benissimo Allora Io non so un Che cos'è Sventura di scroto Ah no, di crota Scusate Oddio ma quanto sei brutta da 7 a 1 milione? 3 milioni Ma che c'hai in testa? Ma vaffanculo Tu e la spada Che la spoderò io nel culo Tu la spada Madonna Ragazzi Allora Dove dobbiamo andare Cryptarch Va benissimo Ciao dai Guarda Dicolato Eh Che figo Eh là Voglio qualche fucile No Non posso fare Stile code Guardate come spazza Uh Benissimo ragazzi Allora Vediamo dove possiamo Andare Dobbiamo un po' Esplorare Credo Dio che figo Nostromo Senti Dammi un po' Di tonno C'è Nostromo Sì Sì Vaffanculo Ok ragazzi Dicono tutti quanti Le stesse cose Questo chi è? Cominciamo Culto di guerra Ah Medaglia di una fazione Vabbè Va benissimo Cioè però Attenuto Te lo posso mettere in culo Perché sei un robot Poi vabbè Ci sono quelli là Fighissimi Ok Direi di andare All'obiettivo Allora Dove siete? No Ok andiamo Allora Benissimo ragazzi Oddio Oh Che figata Ok benissimo Armaiolo Scegli un'arma Fucile Pulsi Fucile Automatico Eh? Dà ricognizione E cannone portatile E' la zio Bella ragazzi Cioè Wow Ok Che voi Che cazzo volete Tutti quanti da me Questo è il cosettino Che Allora Vediamo un poco Questi Allora C'è il cannone portatile Benissimo Questi qua Richiedono Un livello elevato Vabbè Per ora Ci teniamo Questo Vabbè L'involucro Di spettro Che è un figo Ok Ora dove dobbiamo andare Ah La dice Ok Poi Dopo Di qua Ragazzi Io seguo l'obiettivo Ah Ecco Lì Dobbiamo andare Cioè In pratica Secondo me Ci stanno facendo Rifornire Di tutto Per Mandarci Poi Qui Qui Dobbiamo andare Da uno strano Prendi la tua nave Io prendo questa Classe Arcadia Benissimo Ok Ritorniamo Dietro Teniamo pure La nave Ok Abbiamo sbrigato Tutte queste commissioni Vabbè Facciamo le figate Che scivoliamo Così Bellissimi Andiamo Ok Dai Andiamo Poi dobbiamo andare Sotto di nuovo Da che dobbiamo andare Da quell'altra Cioè Non possono Fermandarci Tutti quanti In una stanza Ci fanno fare Tutto No Scegliamo Un titano Questo è un figo Ok Ok Provetto Arrestare Va bene Benissimo Premi Questo Vai in orbita Benissimo Ragazzi Ok Andiamo Vedete Nove armi In arrivo Ok Imposta Destinazione Wow Vabbè Dal filmato Del re dei corrotti Non Tornare Qui Wow Guardate qui Ragazzi Quanto è Ok Andiamo Qui Lancio Guardate La nostra navicella Quanto è Figa Ragazzi Benissimo Vabbè Logico Ok 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 Le stippe Sono stati in presa Seguita Va bene Oddio ragazzi Fatemi provare Questa Oddio che figata È questa pistola Va bene ragazzi Credo che per questo episodio È tutto Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Di Destini Un abbraccio Maternisi Rotto Opla Guardate lì Il cecchino Ciao Ciao